Campo sintetico, dobbiamo preoccuparci? È la domanda del consigliere comunale di Sondrio Democratica, Francesco Bettinelli, che ha presentato un'interrogazione con richiesta di risposta scritta al sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, per conoscere la situazione dell'impianto di Via Valeriana. Il campo da calcio in erba sintetica, scrive Bettinelli, è stato realizzato tra il 2010 e il 2012 a seguito di un accordo tra il Comune e la società Sondrio Calcio, beneficiaria di un contributo pubblico, che a lavori ultimati e omologazione effettuata si impegnava a consegnarla al Comune. Ma il campo, obietta l'esponente di minoranza, così come realizzato, risulta non essere a norma, tanto che in questi anni l'idoneità alla pratica sportiva è stata concessa in deroga. Di qui l'interrogazione, è vero, chiede Bettinelli, che la federazione non ha concesso l'abilitazione all'utilizzo del campo per l'anno sportivo 2019-2020? Se così fosse, sarebbe a rischio lo svolgimento delle partite dei campionati giovanili. Verranno posti in essere interventi atti a risolvere i problemi e chi eventualmente li finanzierà?